Parliamo di Sören Kierkegaard, il più grande filosofo danese con una o barrata nel nome. Kierkegaard, come Schopenhauer, è un antieghegliano, con la differenza che almeno lui non lo prende a male parole. Il punto centrale è che Hegel costruisce un enorme sistema complesso, dialetticamente sviluppato, razionale, in cui ogni cosa è al suo posto, in cui noi vediamo questa epopea dello spirito che cerca di riappropriarsi di sé dalla natura, poi passa nell'uomo, poi passa nella società, cerca di realizzarsi come spirito assoluto, ricomprende in sé ogni aspetto della realtà, e tutte queste belle cose sono però assolutamente astratte, secondo Kierkegaard. Bello, eh? Però, se andiamo nel concreto, noi non incontriamo l'essenza del cane, il modo in cui lo spirito si manifesta nel cane. Noi incontriamo Bobby, Fido. Noi non andiamo al bar con un concetto di uomo, ci andiamo con il nostro amico. Insomma, Hegel si è concentrato sull'essenza, sul concetto universale, sulla forma razionale che hanno le cose, e ha perso di vista l'esistenza, ciò che le cose effettivamente sono concretamente nel mondo. Tutti noi, certo, siamo uomini, la nostra essenza è quella di essere uomini, ma poi ognuno di noi ha una serie di esperienze, vissuti, cose che gli sono capitate, contesti in cui si è trovato a vivere, che l'hanno reso completamente diverso da tutti gli altri. Tutto questo vale in generale, ma vale in particolare per gli uomini. Facciamo due casi. Primo caso. Ciao, Pina, sei bellissima! Anche tu sei molto elegante in un mondo al contrario. Sai, ho un nuovo cane. Com'è? È un pastore tedesco nero. Secondo caso. Ciao, Pina, che bel capelli! Grazie, anche i tuoi sono particolari. Grazie. Sai, ho un nuovo amico. Ah, e com'è? È razza caucasica biondo. Allora, è abbastanza evidente che l'uomo non è definito dalla specie, è definito dalla sua singolarità. Un uomo di razza caucasica biondo potrebbe scegliere di essere un ariano nazista oppure un fricchettone hippie. Ma è la scelta fatta nel corso della sua esistenza, tra le varie possibilità che ha di fronte, che lo rendono una cosa o l'altra, che lo rendono ciò che egli è. Ecco cosa secondo Kierkegaard rende l'uomo superiore a tutti gli animali. E meno male che è morto, perché sennò gli animalisti lo aspettavano sotto casa. Ma l'uomo è superiore perché come singolo ha la possibilità di scelta. Un cane non può scegliersi a inseguire uno scogliattoli, un lemming di buttarsi o no da una scogliera. L'uomo invece ha la possibilità di scelta. E la possibilità di scelta è sempre accompagnata da un sentimento di angoscia. Per ogni possibilità che sì, c'è anche sempre una possibilità che no. Ogni possibilità positiva può essere nullificata da mille possibilità negative. Quando mi rendo conto che nessuna scelta garantisce il lieto fine, ecco che allora subentra l'angoscia. Se poi, dalla singola scelta, passiamo a considerare la vita dell'uomo, la sua condizione, ecco che allora noi proveremo invece... Desperazione! L'uomo si scontra con una impossibilità. Se la sua vita è caratterizzata dalla scelta e ogni scelta provoca angoscia, l'angoscia non può essere eliminata ed è una costante della vita dell'uomo. Data questa situazione non particolarmente positiva, l'uomo cerca delle soluzioni, delle modalità che gli permettano di anestetizzare la scelta e cercare in qualche maniera di vincere l'angoscia. Kierkegaard individua tre diverse scelte di vita, tre stadi dell'esistenza alternativi e distinti e il primo di essi è lo stadio estetico. L'uomo simbolo dello stadio estetico è il Don Giovanni di Mozart, è il seduttore o, per parità di genere, la seduttrice. L'uomo esteta vive nell'immediatezza, nell'immediata soddisfazione, nel godimento, nel piacere, nella sensualità, secondo il motto carpe diem, prima che diem, carpe te. Ok, il motto non è proprio così, mi raccomando, non ripetetelo in questo modo alla commissione, ci facciamo una figura di palta, voi e io. Ora, perché questo stile di vita dovrebbe metterci al riparo dall'angoscia? Beh, perché il seduttore non si impegna, non sceglie mai una volta per tutte, non fa progetti a lungo termine, sceglie ciò che immediatamente, prima che l'angoscia possa nascere, gli dà godimento, soddisfazione, divertimento. Il seduttore vede una donna che lo interessa e prova a conquistarne l'animo per puro piacere di conquista. E, comunque vada a finire, si sarà divertito nel gioco e, in ogni caso, passerà poi oltre. Cercherà qualcos'altro che lo interessi, qualcosa di nuovo, di eccezionale, e passerà oltre. E, in questo modo, dal momento che non c'è progetto, non c'è possibilità di fallimento, sembra che non ci sia angoscia. In realtà, però, quello che caratterizza lo stadio estetico è la DESPERAZIONE! La vita dell'esteta non ha un senso, non ha un punto unificatore, non costruisce nulla. Vanità di vanità. Può magari non rendersene conto, o rendersene conto e reagire con cinismo, ma la sua vita è vuota e, perciò stesso, disperata. Quando se ne rende conto, può passare allo stadio etico. L'uomo etico fa una scelta opposta. Decide di scegliere e di scegliere rinunciando all'eccezionalità e scegliendo in maniera ripetuta. L'uomo simbolo dello stadio etico è il marito, l'uomo che sceglie una donna per tutta la vita, nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non li separerà. E, in maniera analoga, sceglie ripetutamente tutti i giorni un lavoro, una professione, un ruolo sociale, e resta fedele ad esso. Che angoscia, direte voi, che nel 90% dei casi siete in uno stadio estetico. com'è possibile che la ripetizione noiosa comporti la liberazione dalla disperazione? Beh, perché in realtà se io scelgo sempre la stessa cosa, diventa un'abitudine, diventa scontato, non mi pongo più il problema di scegliere. E se non mi pongo più il problema di scegliere perché la scelta l'ho fatta una volta per tutte, ecco che sto tenendo a bada l'angoscia. O meglio, penso di tenerla a bada perché in realtà è sempre in agguato la DESPERAZIONE. L'uomo etico deve fare i conti col fatto che non è come vorrebbe essere. Che le scelte che fa possono sempre essere soggette alla tentazione, al ripensamento. Per quanto ci si sforzi il dubbio risorge sempre e col dubbio la possibilità, l'angoscia e la disperazione. Il rimorso e il pentimento possono però portare l'uomo all'ultimo stadio, lo stadio religioso. L'uomo di fede si affida a Dio. Non fa ciò che vuole lui. Fa la volontà di Dio. E quindi la sua scelta non è più legata a ciò che lui pensa, a ciò che lui crede, e quindi fallibile, e quindi soggetta angoscia. La sua scelta è totalmente dipendente dalla volontà di Dio. Ma è ovvio che se Dio è buono, perfetto, eterno, onnipotente, onnisciente, ciò che Dio vorrà per noi sarà sicuramente buono. Sarà una scelta sempre, in ogni caso, positiva. Non potrà andare male. E quindi, riposando nell'unica scelta assolutamente positiva, noi vinceremo. Questa volta, sì, del tutto, assolutamente, completamente, l'angoscia e la disperazione. Ecco, detto così, sembra semplice, ma c'è un problema. Il simbolo dell'uomo di fede per Kierkegaard è Abramo. Breve riassunto di storia biblica. Abramo non ha avuto eredi, sua moglie Sara è sterile, ma gli appare Yahweh, che gli promette una discendenza numerosa come le stelle del cielo se lui lo adorerà e gli sarà devoto. Abramo accetta il patto e gli nasce un figlio che riceve il nome di Isacco. Fin qui tutto bene, ma a un certo punto, quando Isacco ormai è già un fanciullo, Yahweh gli dice Abramo, sai che c'è? Vai su quel monte che ti indicherò, porta con te tuo figlio e sacrificalo in l'olocausto a me. E Abramo, senza dire ne ha ne va, prende il figlio, lo carica con la legna, prende il fuoco e il coltello e si avvia. Col figlio che dice, ma come è che non abbiamo un capretto, un agnello? Il padre, no, ma non ti preoccupare, arrivati qualcosa troveremo. Arriva in cima al monte, prende il figlio, prepara tutto, prende il figlio e si prepara a scannarlo. E a quel punto Yahweh dice, ah, trollollollollo, scherzone, bravo, hai avuto fede, quindi dai, per questa volta non ti faccio sacrificare il tuo unico figlio, guarda, c'è un apposito caprone espiatorio in quel cespuglio, sacrifica lui. E Abramo sacrifica il caprone, lo brucia, eccetera, eccetera, e tutto finisce bene, se non che Isacco avrà qualche tromo infantile e non vorrà mai più salire su una montagna in vita sua. Ecco, la fede vince l'angoscia, vince la disperazione, ma è solitudine, rischio e paradosso. E solitudine è un qualcosa che non può essere condiviso con gli altri, perché se Abramo diceva, ah, Sara, senti, adesso prendo nostro figlio, lo vado a sacrificare, ma non ti preoccupare, torno per cena, o se ne parlava con chiunque, l'avrebbero arrestato, l'avrebbero chiamato la neuro, ma sei fuori, senti le voci, ed è rischio, perché siamo sicuri che sia proprio quella la volontà di Dio e non una tentazione diabolica? Certo, se ho la certezza che sia la volontà di Dio e ho fede, mi affido, ma c'è sempre il rischio. Ed è paradosso, perché tutto questo non è spiegabile. Se ci pensiamo, è assurdo Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo figlio unigenito dal quale doveva discendere una discendenza numerosa come le stede del cielo. Da qualsiasi parte la guardi, non ha senso. ma anche la stessa scelta di fede. Io devo pregare Dio che mi conceda la fede, ma se non ho la fede non posso pregare Dio. Non se ne esce. Il punto è che lo stadio religioso risolvese il problema dell'angoscia e della disperazione, ma non è un qualcosa che possa interessare la filosofia, perché non è più razionale, diventa teologia, diventa un'analisi esistenziale, ma dal punto di vista religioso. e quindi non è più di interesse per questo che alla fin fine è un corso di filosofia. Se qualcuno ha guardato questo video aspettandosi qualcosa che confermasse il suo ateismo, il suo consumismo, il suo credo politico, beh, ha guardato il video sbagliato. Dovevate guardare il video su Feuerbach. Ma il video su Feuerbach non c'è! asamore! HAHAHAHAHAHA HAHA HAHAHAHA Grazie.